Anche all'interno del Consiglio Comunale di Riva si è parlato di Punta Lido. In questa occasione è emersa la volontà del Sindaco Adalberto Mosaner di affrontare la delicata questione confrontandosi con le istanze sollevate dai cittadini. Nella question time i consiglieri del Movimento 5 Stelle hanno chiesto spiegazioni sul futuro dell'attuale bar gelateria Punta Lido. Pronta la risposta di Mosaner che ha ricordato ai consiglieri le mozioni recentemente presentate sia dal gruppo pentastellato che dal consigliere Santorum, mozioni che saranno prese in esame nei prossimi consigli comunali, nei modi e nei tempi delle istituzioni. Il tema è complesso e va affrontato a tutto tondo, ha dichiarato Mosaner. Non è certo mia intenzione sottrarmi alle istanze sollevate dai cittadini ed è quindi giusto avviare un confronto. Dobbiamo ricordare però, ha precisato il Sindaco, che questa ristrutturazione non solo era presente nel Piano Cecchetto ma anche nei decenni precedenti. È dell'anno 1983 che prende la forma di una gelateria ma anche la terrazza ha subito una demolizione e ricostruzione intorno agli anni 90. È quindi indispensabile il confronto e lo si può fare ma ragionando con delle soluzioni appoggiandosi a degli esperti per fare le dovute valutazioni.